Nuove competenze tecniche per un settore, quello edile, in grado di ritrovare la via della crescita e uscire definitivamente dalla crisi. Questo è il tema attorno a cui è ruotato il convegno organizzato dal CFS Centro Formazione e Sicurezza di Napoli. Ascoltiamo Paola Marrone, Presidente CFS. Un traguardo importante perché concludiamo il progetto del Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze nel settore delle Costruzioni. Questo progetto è nato nel 2015 ed oggi noi qui presentiamo i risultati del lavoro che abbiamo svolto in questi anni. L'evento è stato ospitato dal nuovo auditorium del CFS, gremito di ingegneri e addetti ai lavori per l'occasione. Queste le parole del Presidente ACEN, Francesco Tuccillo. Portiamo a conclusione un lavoro importante. Abbiamo svolto una serie di seminari, di studi, di ricerche, di approfondimenti. Abbiamo coinvolto le ordini professionali, un processo di crescita e di integrazione con le varie materie di competenza e di attinenza del nostro settore. Il risultato mi sembra eccellente. Non solo, è una giornata importante anche per la formazione professionale partenopea. Davanti agli esponenti del Movimento Libero Autonomo e del CFS, in forma di fatti sono state consegnate le prime qualifiche per coloro che saranno chiamati ad accertare le competenze del nuovo sistema da poco in vigore. Una svolta storica, come afferma l'assessore regionale competente in materia Chiara Marciani. Da oggi 120 enti circa potranno certificare le competenze di tutti i cittadini della Regione Campania e quindi valorizzare quelli che sono percorsi non necessariamente formali, quindi appresi anche in modalità non classica, quindi non in aula. Ed è una fase importante perché è una novità ed è una svolta anche perché vorremmo che gli enti di formazione che adesso possono portare avanti questo percorso, innalzino anche quelle che sono le loro qualità formative.